Benvenuti a TG360, all'informazione flash a cura della redazione di Arretto Acquesio. Giuseppe Germani è il nuovo sindaco di Orvieto, il candidato del centro-sinistra ha superato Antonio Concina con il 54,38%. Antonio Concina si è fermato al 45,62%, 5.715 voti per Giuseppe Germani contro i 4.794% di Antonio Concina. Totale dei voti validi 10.509 pari al 97,74% dei votanti. 63 sono state le schede bianche per lo 0,59%, 179 le schede nulle pari all'1,66%, una soltanto la schede contesa. 10.752 il totale dei voti. Sono state scrutinate tutte e 29 le sezioni del comune di Orvieto, 5.715 voti per Giuseppe Germani contro i 4.794% di Antonio Concina. Il centro-sinistra torna quindi a guidare il comune di Orvieto. Da domani si volta pagina, o meglio, si torna al passato questi voti dei due candidati, sezione per sezione. Sezione numero 1 centro storico, 208 per Germani, 245 per Antonio Concina, 613 per Germani, 182 per Antonio Concina. Sezione numero 3 158 Germani, 227 Concina. Sezione numero 4 centro storico, 207 Germani, 291 Concina. Sezione numero 5, 226 Germani, 298 Concina. Sezione numero 6, 261 Germani, 236 Concina. Le tre sezioni di Orvieto Scalo, 7, 8 e 9, 198 voti per Germani, 203 per Concina. Nella sezione numero 8, 249 voti per Germani, 183 per Concina. Mentre nella sezione numero 9, 228 voti per Germani, 179 per Concina. A Ciconia, dove le sezioni sono ben 6, la numero 10 ha visto 237 preferenze per Germani contro i 200 di Concina. Sezione numero 11, 282 Germani, 169 Concina. Numero 12, 223 Germani, 177 Concina. Numero 13, 269 Germani, 213 Concina. Sezione numero 14, 351 Germani, 234 Concina. Sezione numero 15, 337 Germani, 199 Concina. Nelle tre sezioni di Sferra Cavallo, 16, 17 e 18, la sezione numero 16, la famigerata sezione numero 16, è stata l'ultima ad essere scrutinata, con 394 preferenze per Germani contro i 248 di Concina. La sezione 17, 361 Germani, 265 Concina. Nella sezione 18, 129 Germani, 108 Concina. A Ponte del Sole, 263 preferenze per Germani, 192 Concina. Ad Ospedale, 8 preferenze per Germani, 2 per Concina. A Torre Sansevero, 146 preferenze per Germani, 94 per Concina. A Canonica, 121 per Germani, 78 per Concina. A Sugano, 153 Germani, 81 Concina. A Corbara, 75 Germani, 42 Concina. Al Fossatello, 144 Germani, 90 Concina. A Prodo, 16 Germani, 10 Concina. A Morrano, 74 preferenze per Germani, 108 per Concina. A Tordimonte, 36 Germani, 29 Concina. A Canale, 248 per Germani, 221 per Concina. Complessivamente, i voti sono stati 10.752, 10.509 voti validi, 63 le schede bianche, 179 le schede nulle, 1 la scheda contesa. Comunque, discorso no, perché non c'è niente. Vorremmo solo ringraziarvi, tutti quanti, vedo che è stata una grossa battaglia per tutti, da parecchio tempo a primi avanti. Non dico solo negli ultimi mesi, ma io credo sono stati 4-5 anni di duro lavoro per tutti, i miei modi. Abbiamo più volte rischiato di riflagrare come gruppo, come partito, ma non solo, come credo sinistra o vieto. Già l'abbiamo fatta, il risultato è questo, non è il risultato mio, è il risultato di più quanto voi. E quindi spero che ora, però con questo entusiasmo, facciamo anche quest'altro pezzetto di strada.